Buongiorno da Matteo Barberi, eccoci qua, eccoci qua, ci vediamo un po' la luce, ci sono qua, si vede un po' pochino, oh, è un po' più chiaro, allora ci vediamo questa luce esterna, oggi parliamo dell'importanza di avere un piano editoriale e lo faremo vedendo come sempre anche uno strumento pratico e veloce per gestire il piano editoriale, per mantenere quella relazione con i nostri follower che sono la base coltivata, veri co-follower, cioè i target, che ci permettono di creare le relazioni, di creare poi delle trattative e delle relazioni commerciali. Allora andiamo subito a vedere un esempio di piano editoriale, tolgo, cari mio, questo banner così non ci dà fastidio, andiamo a condividere come sempre il bellissimo schermo, voilà, ci mettiamo in piccolini, ci mettiamo qua, oh, così, eccoci qua. Andiamo a vedere ovviamente uno strumento che vi consiglio di avere, tra l'altro nel corso di formazione, costruisci, gestisci i tuoi corsi online e fate, che vi invito poi qui nel link andare a vedere cosa offre questo percorso formativo, che è utile, direi utilissimo per i formatori o enti formativi per fare business con la formazione, trovate anche il corso completo su Canva. Canva, tra le varie opportunità, vi offre planner per contenuti formativi. Questo planner vi permette di gestire attraverso un calendario, come vedete in questo momento, proprio quello reale, di creare che cosa? Il vostro piano editoriale. Editoriale vuol dire che io vado a pubblicare con una logica strategica dei contenuti, dove questi contenuti, per farvi capire, devono lavorare su più, diciamo, obiettivi. Uno su quelli che sono gli obiettivi di far conoscere la vostra azienda, per quello che fate all'interno, magari chi siete, il personale, quali sono le attività più curiose all'interno dell'impresa, contenuti formativi o informativi sugli argomenti che voi trattate, argomenti legati più a, può essere più, di engagement, cioè di relazione, per esempio quelli che vengono chiamati contenuti di aforismi, piuttosto che ricordare alcune scadenze per quanto riguarda, non so, tutte le ricorrenze delle feste importanti, una serie di curiosità che permettono, e poi ovviamente anche contenuti commerciali, con azioni che portano alla richiesta dell'incontro, perché è un mix di contenuti che ci permette. Sicuramente farlo con una logica, io non vi chiedo di fare quattro post al giorno, però almeno un post al giorno in cui andate a pianificarli una volta alla settimana, quali sono i contenuti e come farlo, Canva ci aiuta perché io con Canva posso creare ovviamente tutte le immagini fatte molto bene e condividerle sui social. Anche dall'area Planner, come voi vedete, io posso andare sul più e andare a creare i miei post, se li ho fatti, come voi vedete, è molto bello perché facendo clic su quello che può essere un'immagine usata sui social Facebook, la posso portare su un altro social, esempio se io vado qua, esattamente io posso andare a decidere di condividere, ovviamente prima avete connesso tutto, vado a scegliere il mio canale, la data, il post lo va a copiare, e faccio esattamente un bel, ecco, salva e pianifica all'interno del mio post, questo sì perché era in bozza, se no vado a creare il mio progetto da zero, di quello io vado a creare il progetto, dice quale progetto vuoi realizzare, quello posso fare sia in questo modo, vado su più, provate, crea il progetto, ok? Quando si parla di progetto, Canva vi permette di generare quello che sono i formati, posso andare su Facebook, posso andare su LinkedIn, posso andare su YouTube, perché può generare qualunque tipo di grafica, e questo è importante perché vi aiuta a gestire velocemente quelle attività di creazione brochure, molto molto velocemente rispetto a un passato, cioè è un momento drastico, io stesso vado a scegliere il Facebook, mi becca già, uso becca per scherzare, ma mi prende già il formato, io vado a gestire, io in questo caso sto lavorando con Canva Pro, perché Canva Pro? Perché Pro mi permette velocemente di avere molte immagini già, tra virgolette, pagate, e non devo neanche andare a scegliere le immagini, se io voglio o utilizzo i modelli che sono molto interessanti, o in questo caso io posso lavorare anche solo sulle foto, se io adesso cerco una foto che riguarda per esempio corsi online, perché ha un motore di ricerca anche molto veloce in italiano, cosa faccio? Prendo l'immagine, me la porto all'interno, faccio tutte quelle che sono, e sto facendo molto velocemente, vado a fare quello che è, io mi sono già precaricato nei caricamenti, e vado a caricare tutti i miei file grafici che mi servono, immagini esterne, piuttosto che il logo come sto facendo io in questo momento, se lo trovo, prendo for meeting, lo metto qua, a me basta avere un'immagine con il logo, lo vado a ridimensionare un attimino perché ho così, ho l'immagine, non faccio che nient'altro fare condividi, posso decidere mille cose dallo scarica in JPEG, PDF o anche in video, in questo caso voglio farlo, metterlo sul profilo di LinkedIn, ok, vado a mettere il testo, velocemente quello, ovviamente il link perché vado ovviamente a portare un'informazione verso una pagina o una landing page, guardate i video sui funnel all'interno del percorso foro, che vi spiega quali strumenti utilizzare e come utilizzarli per creare pagine web che portano alla vendita o a un'azione definita call to action, ok, e questo ci permette di fare questo tipo di operazione. Vado a scrivere, una cosa che vi chiedo sempre, quando si fanno i post, cercate di utilizzare anche i grassetti o altre operazioni, questo piccolo programma che si chiama di e-text mi permette di inserirlo qual testo e di generarlo già in grassetto o con altri tipi di formattazione, per quello posso fare il mio bel post già bello in ordine che mi permette di lavorare all'interno, il link posso generarlo e accorciarlo attraverso ovviamente Viltly che mi permette di accorciare e generare link più corti, quelli definiti short link, che sono molto importanti, e poi pianifico il mio post, scelgo ora, giorno e lo vado a mettere. In modo tale posso come strategia, ricordiamoci anche di replicare i post più volte nell'arco del mese in orari diversi per andare ad analizzare le KPI, se non sapete cosa sono le KPI, mette nel corso dove c'è un modo dedicato alle KPI, che cosa sono gli indicatori di analisi, e questo è il tutto per oggi per essere sempre autonomi nel vostro piano editoriale. Chi lo può fare? Chiunque in questo momento, perché non ci sono, tra virgolette, grandi capacità per poterlo fare, vi abbiamo dato un bellissimo strumento veloce per pianificarlo, create il vostro piano editoriale su più ambiti d'attacco e avete il vostro piano editoriale. Lo fate fare una volta alla settimana, fate fare un po' di dritte, avete i vostri cinque post alla settimana, se parliamo di uno al giorno o uno o due, e avete il piano da vedere ovviamente all'engagement, cioè quelli che rispondono, ma avete anche poi un posizionamento. Nel corso, rivalisco nel corso, creare un tuo corso di successo, trovate oltre 150 video, qua sotto trovate il link, che vi permette di veramente, di fare tutto il percorso, dalla creazione di un corso, a tutto quello che è comunicazione, relazione, marketing, gestione e erogazione del corso, il primo corso che vi fa fare business con la formazione, da A alla Z. Grazie da Matteo Barberi e al prossimo video. Grazie a tutti.